Una partnership che si rinnova, questa tra Casa Modena e l'Azimut, Modena Volley, questa volta su dei prodotti molto indicati per gli atleti. Sì, assolutamente. Loro sono esattamente il nostro consumatore, sono giovani, quindi sono dei ragazzi che sicuramente hanno voglia di divertirsi e di mangiare bene. Come ci hanno detto loro, per loro è un sogno l'idea di poter mangiare il salume senza dover stare attenti e stargli a contare le fette, visto che questi salumi appunto sono dedicati a loro. Io te lo chiedo, è una partnership che quindi può prolungarsi anche per i prossimi anni tra Casa Modena e la squadra di pallavolo? Allora, sicuramente tutti noi ci crediamo, poi è ovvio che sono sempre accordi annuali questi, però il GSI non ha nessuna intenzione di tirarsi indietro.